primo ricordo mia prima lezione all'unical 96 probabilmente niente presentazioni niente cerimonie di inizio anno marcello parte direttamente inserendo un vhs nel video registratore e parte wavelength di michael snow film sperimentale di inizio fino anni 60 e era un lungo zoom di 45 minuti che attraversava un loft new york case fino ad arrivare su una fotografia sul muro con suoni rumori per lì con la sgranata noi eravamo in aula eravamo 10 15 tutti al primo anno probabilmente tutti provenienti dalla provincia dalla periferia e quindi ci guardavamo che cos'è questa cosa qui cosa ci sta facendo vedere è marcello zitto il film finisce noi attenti il film finisce e lì parte l'avventura intellettuale con con marcello accanto a marcello lui fu il primo probabilmente che ci ci aprì un mondo che non era solo quello dei film d'autore dei prodotti culturali di alto livello ma soprattutto l'idea di come interpretare una maniera originale creativa un qualsiasi prodotto e costrutto culturale e di marcello colpiva colpiva la la natura da performer tutte le sue lezioni io segui per quattro anni i suoi corsi fino a fare la tesi con lui erano una performance erano uno show lui in piedi lui fra di noi mezzo ai banchi lui alla lavagna a fare i suoi diagrammi sui disegnini e lui con il naso attaccato al libro per leggerci qualcosa è sempre ponendoci questa domanda cosa avete visto siete sicuri di quello che avete visto probabilmente c'è un'altra lettura possibile questa con la prima grande grande lezione c'è questo invito a scavare andare a pescare negli ambiti culturali più diversi di quelli alti quelli bassi il cinema il fumetto la musica pop questa fu la prima grande lezione non accontentarsi della prima interpretazione mandare 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 oltre forte della lezione del suo maestro di umberto eco lui questa formula la ripeteva la riproponeva continuamente nelle sue lezioni nei nei suoi libri nei suoi incontri pubblici e anche in privato con marcello come sarà successo a molti di voi con marcello si usciva si andava si andava al pub art a mangiare un panino si andava modernissimo a vedere l'ultimo film si facevano tante chiacchiere fino a notte tarda e quella come con la curiosità intellettuale era ero smotica passava era un fluido benefico benigno che che diffondeva attorno a sé poi con marcello appunto mi laureai fu il mio relatore per mesi durante questa benedetta scrittura di questa tesi ogni tanto lo chiamavo lo incontravo cosa ne pensate professore all'epoca davo del voi e noi si si va bene va bene una settimana prima della sessione professore ma allora questa mia tesi si si va bene va bene scritta in italiano a me sembra sembra uno straordinario commento lusinghiero estremamente laconico naturalmente ma ma detto da lui insomma aveva un grande valore quando penso a marcello mi viene in mente il suo luco il suo aspetto fisico che malgré moi con gli anni ho assunto anch'io e rimangono un po dei suoi libri che mi regalò nel corso degli anni tutti sottolineati stropicciati con i disegnini dei veri libri d'autore dei veri libri d'arte rimangono un po di collage che mi regalò in anche anni recenti rimanevano gli strani messaggi che mi inviava su facebook chat sempre stimolanti sempre vai fai agisci produci fu sempre di grande supporto sono sempre grande supporto in questi anni per me marcello per me marcello è stato è stata l'università è stata è stato il simbolo degli anni della scoperta intellettuale degli anni dell'amicizia delle progettorietà è stato per me era il era sinonimo di sognare il proprio futuro avere tutta la vita davanti e provare a utilizzarla al meglio quindi viva marcello e grazie